La città di Bitonto ha un proprio rappresentante all'interno del direttivo del nucleo di protezione civile. Si tratta di Tommaso Pagone che già da tempo ricopre il ruolo di presidente all'interno della sezione bitontina e che è stato eletto nel coordinamento dei volontari della Regione Puglia durante il corso delle ultime consultazioni. Grande soddisfazione per il neoeletto dunque che ai nostri microfoni ha spiegato effettivamente quale sarà il suo ruolo all'interno dell'organizzazione. Farò il consigliere, avrò la mansione di consigliere. Nel frattempo sarò responsabile insieme a un altro collega dell'Aves di Modugno, responsabile dei mezzi e delle attrezzature e quindi a un momento stiamo in fase di costituzione. Nella struttura del coordinamento c'è molto lavoro da fare perché il coordinamento noi essendo come provincia da capofila dobbiamo organizzarci nel organizzare tutto ciò che c'è da fare per quanto riguarda la Regione Puglia e la provincia di Bari. L'NPC Puglia è da sempre un punto di riferimento per tutte le situazioni dove sia necessaria assistenza non solo al singolo cittadino ma anche a tutta la comunità e pratici esempi possono essere state le ultime situazioni di emergenza gestite durante la pandemia o le informazioni e gli aiuti rese alla popolazione nell'affrontare il periodo. Abbiamo chiesto a Tommaso se si aspettasse effettivamente questa nomina e soprattutto cosa significasse l'essere investito in un importante ruolo come il suo. Sono orgoglioso perché grazie all'aiuto dei volontari della mia associazione, dopo sette anni di duro lavoro che sono presidente di questa associazione, diciamo che è un orgoglio per me far parte di questo consiglio direttivo e quindi rappresentare la città di Bitonto. Ci vuole molto impegno da parte mia e da parte di tutti quanti della mia associazione e spero che anche le associazioni di Bitonto ci aiutino a far parte di questo coordinamento perché il coordinamento è fatto dall'insieme di associazioni e quindi di un'unione continua di tutti. Vorrei ringraziare principalmente i miei volontari perché mi sono stati vicini dall'inizio di questi sette anni e in più vorrei ringraziare Grazia Marino, la mia vicepresidente, in quanto in questi tre mesi di Covid è stata presente tutti i giorni come me e ci siamo veramente dati da fare per la cittadinanza di Bitonto.